Dalla trilogia di Life, il romanzo di Alex Polly, sta nascendo il primo film senza immagini. Non è un audiolibro, è la produzione più innovativa e unica nel mondo dell'audio. Audio Movie. La realizzazione di una colonna audio come fosse quella di un film, solamente che le immagini le mettete voi. Ma non mi interessa il denaro, se è questo che mi sta offrendo. Andare a vedere un film che è stato costruito sulla base di un libro, molto spesso si sente dire è un pochettino deludente. Perché? Perché la realizzazione, anche distante dalla fantasia del lettore, è costretta ad ingabbiare attraverso le immagini quel dato tipo di emozioni. Invece, con l'Audio Movie, diamo e vogliamo conservare la possibilità all'ascoltatore di continuare ad immaginare, attraverso la propria creatività, ciò che sta a ascoltare. Pensavo questo di te l'altra sera e sono stato tentato di chiamarti. Ok, Roby. È la storia di un cambiamento che non riguarda soltanto il protagonista, ma che riguarda il cambiamento di un'intera società. Life è sicuramente un percorso che solleciterà il pensiero, perché darà proprio la possibilità di conservare quella freschezza immaginativa di tutti coloro che ascolteranno. Tutti coloro che ascolteranno. Ma insomma, signor Templer, ne puoi l'esserebbe. Perché sono sicura che se sorrica la vita... Come finirete ad ascoltare l'Audio Movie, riconoscerete subito le voci che avete ascoltato nel cinema, in televisione, in pubblicità. Esattamente come adesso. La storia di Life, attraverso il thriller esoterico di John Templer, rispecchia i tempi correnti. Per via del mondo nel quale ho vissuto. Con in più un grande messaggio di speranza che porti verso l'amore. Questo mi fa sentire insolitamente bene. Con il cambiamento della società fondata sul noi e non più sull'avidità del Dio. Perché non sei un alieno? No. Siamo un alieno. Il percorso che l'intera umanità ha intrapreso su una strada sbagliata. Sbagliata. Da troppo tempo. Da troppo tempo. Amatevi come io amo come io amato. Ero partito da un sogno. E grazie a Voci.fm che mi ha supportato sin da quando sognavo semplicemente di poter realizzare un Audiomobile. Il nostro obiettivo è quello di far vivere una storia dal punto di vista dell'ascolto. Dal punto di vista dell'ascolto. Sono 107 persone che lentamente snocciolano questa storia che è assolutamente incredibile. Grazie a te, grazie a te di tutto. Grazie anche di avermi chiamato per fare questo ruolo. Anche così importante. Soprattutto in questo momento storico. Per cui mi sento anche soltanto di dirti che insieme ce la faremo. Insieme ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta ancora una volta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce la facciamo. Ce la facciamo. Ce l'abbiamo fatta. Hai visto che insieme ce l'abbiamo fatta. Anche il tuo brand può unirsi al progetto LIFE e far parte del primo grande film senza immagini Informati al numero verde 800 031 521